10 agosto, notte di San Lorenzo. Quest'anno lo spettacolo delle perseidi, delle stelle cadenti, sarà ancora più emozionante. Sì, sarà emozionante perché è favorito da due elementi. Il primo è che siamo in luna nuova, quindi non abbiamo il disturbo della luce della luna, che ovviamente schiarendo il cielo le rende meno visibili. Il secondo è che probabilmente la Terra passerà attraverso un filamento di detriti rilasciato dalla cometa Swift-Hattel nel 1992, che potrebbe dare origine a una pioggia più intensa del solito. Va però fatta qualche considerazione. Consideriamo il 10 agosto, perché notte di San Lorenzo, la sera in cui si vedono per Antonio Masa le stelle cadenti. In realtà questo sciamme di stelle cadenti si vede da fine luglio fino a circa il 20 agosto e da molto tempo ormai la notte del massimo è la notte del 12 agosto, non del 10. E quest'anno il picco dovrebbe essere dalle 22 in poi del 12 agosto. Questo non significa che il 10 non se ne vedranno, ma la massima intensità ci raggiungerà appunto due sere dopo. Nel nostro territorio dove potremo osservare al meglio le stelle cadenti? È importante trovare una località con un cielo abbastanza buio e il più possibile aperto. Quindi avere un orizzonte sgombro soprattutto verso est-nord-est, che è il punto da cui si diramano le stelle cadenti in tarda serata. Perché tutte le stelle cadenti sembrano provenire da un unico punto, che è nella costellazione di Perseo, che appunto sorge a nord-est in tarda serata, da qui il nome è appunto Perseidi. Non serve nessuno strumento particolare, si osservano a occhio nudo le stelle cadenti. Nonostante questo, una serata osservativa con telescopi può essere utile per osservare le stelle cadenti a occhio nudo e il resto del cielo con strumenti invece potenti. Ed è per questo che il gruppo Deep Space organizza qui nel territorio una serie di serate appunto che hanno le stelle cadenti al centro, ma non solo. La prima sarà il giorno 10 a Castello Brianza, la seconda sarà il giorno 11 alla Poncia, cioè ai Giardini a Lago di Mandello e la terza sarà al centro sportivo di Civenna il 12 agosto. Possiamo esprimere un desiderio? Certamente sì, di solito non bisogna, secondo la tradizione non bisogna dirlo apertamente perché altrimenti non si avvera, ma per quanto riguarda me personalmente il desiderio che esprimo ogni volta che vedo una stella cadente è di vederne un'altra.